Grazie 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 sulle successioni per i tanti e tanti modi, allora possiamo dire che è un soggetto comunico che si muove in una direzione che è chiara, ossia in una direzione che è stancita dai vicini della nostra costruzione che definisce il vicino di equità. Sembrerà una cosa tutta, ma quello che noi abbiamo progressato negli ultimi dieci anni e che ha condizionato la vita degli editori è stata una politica che aveva assolutamente affiurato questi vicini. Allora, la possibilità di riappropriarci come ente notare dell'imposta comunale sui immobili che è utilizzata verso la destinazione vincolata di forza comunale sui immobili è un'opportunità che l'amministratore locale non si può fare. Qual è la direttiva verso la quale è utilizzata poi di forza comunale o qualunque spunto o qualunque possa essere utilizzata. In parte va utilizzata alla politica dello sviluppo, quindi è in grado che devono essere vincolato, perché in parte vanno destinati a creare condizioni per lo sviluppo, ad altre imprese. Attrazione dell'impresa non significa riempimento di consumo, ma significa creazione delle condizioni affinché si possa creare maggior prodotto in tempo l'oppo e di conseguenza incremento del livello equazionato. Quando noi parliamo di sviluppo, parliamo sempre questo di me. Qui, Icch, imposta sulle successioni di donazione, o altre non medietà, aumento delle rende della giustizia e quindi aumento delle imposte su a curià per un patrimonio che noi costruivo di ricchezza, indirizzato nelle due direzioni che rappresentano, mi servono a rappresentare il processo di cibo e di vita, sviluppo e riduzione del risalcio sociale. Questa linea politica che è che si parte dal livello centrale e viene nuota ai tempi locali, si basa sulla nuova definizione del sistema sociale nel quale noi viviamo, dove ha, come principio, quello di far stare bene di vita, divina e riduzione, migliorare le condizioni dei cittadini e di loro e persone, politica del centrale, attrazione delle imprese e quindi cercare di individuare gli strumenti, non sono qualche cosa di aria a conto, ma sono qualcosa di tecnico, cioè creare un territorio di qualcosa che possa prevedere ancora una riduzione anche dei punti locali a condizioni che poi vengono articolati e garantiti i principi quali si orienta la politica del bene locale, che è miglioramento delle condizioni, un diritto spesso è concetto, miglioramento delle condizioni del territorio di vivere successivamente. Il terzo partore su cui si deve puntare, e anche su questo, consigliere Bonissimo, io credo che questa amministrazione che stia facendo nei tanti anni, abbia modo di leggere una determina dirigenziale del 5 agosto di quest'anno redatta dalla dirigente, dal personale di braccio. È una determina che fa individuare all'interno della direzione, all'interno della funzione, i centri di responsabilità. Quindi quelle cose che poi molto spesso definono in maniera genetica sono state riprese con un altro amministrativo chiaro e definito. Sono definiti i centri di responsabilità, all'interno di ciascun centro di responsabilità, che deve portare avanti queste decisioni. Vengono definite le funzioni. E al capo di ciascun centro di responsabilità, che deve portare avanti queste decisioni, viene individuato un concetto responsabile. Dal concetto responsabile andrà ad assumere la responsabilità gli obiettivi e dei costi ovari che devono conto di un certo tipo di responsabilità. Mi sono bencapitato, ma non con un concetto che sono i nostri obiettivi, cioè sono i nostri obiettivi, i mercati, i atti e i padatti della sua famiglia è quasi felice perché definisce vuole funzioni fondamentale. A quel punto, quando hai definito le porte di un'opera, del punto quando si divinita il fondo del partito tra i giudati, i vincenzi e i suordinati, a quel punto tu hai un critério per ripartire noi la energia, solizio e ragionamento, ma lo vado a ripartire in relazione ai carichi da cuore e in relazione agli obiettivi di sanico e ragione. Tutto questo c'è in una competenza di incentivo. E noi cercheremo di lavorare a che invece il motivo che sta all'interno di questa delle donne che incendiamo, possa diventare il patrimonio di tutti i settori del futuro. Di quello che faccio a me stesso è di dotare questo approccio degli altri studenti necessari anziché non sa essere efficace, ossia l'organismo indipendente di comunicazione è il sistema e l'imprenditazione del sistema di controllo interno di gestione. Mi auguro di non trovare, nel senso del nostro sistema, di fronte a un sistema che prevega la rivoluzione dei conti in maniera uguale, non è uguale, ma è uguale. Questo ci sostendirebbe di stare all'ecco dei torsi umani e di dare spazio, soprattutto, non ho utilizzato la metàfora del poste patronale che introdossale e di aggirare le ragionanze di assurdo, perché le ragionanze di assurdo, perché le fanno avanti in piedi e non fanno un tipo di gesto, la nazione, la vita, ma con la decisione di credo di lavoro, con la decisione degli obiettivi, capito, veramente chi lavora, chi non lavora, e con l'inità di credibilità, ecco che hanno fatto e spesso di attivizzato gli obiettivi, questi sono altri studi di pressione che in alto possono essere disegnati all'interno dell'economia, tutti i consigliari competenti, cioè maggioranza e oposizione, e spero che possano essere progetti di lanciamento e consiglio, perché faccio un'economia in questo comitato, può salutare tutti in piedi e contributo all'ottimuto di questo desiderio.